Siamo con Joao Raffaele, schiacciatore della Globo Banca Popolare del Frusina Tesora. Una bellissima vittoria con Dromonza domenica scorsa. Che cosa vi ha portato a questo bel risultato? Abbiamo fatto veramente bene lì. Abbiamo fatto qui in palestra molto bene, quindi questo ha dato un po' di fiducia per arrivare sulla partita bene. Adesso abbiamo già festeggiato, quindi dobbiamo pensare sulla prossima, che sarà una partita molto difficile. La prossima in casa con Ravenna. Che squadra è Ravenna? Una squadra che sta facendo veramente bene. Stanno bene in campionato sulla classifica, hanno un paleggiatore molto esperto, uno posto forte. Dobbiamo pensare una soluzione, dobbiamo avere una soluzione per fare bene contro di loro pure. State lavorando bene questa settimana in palestra? Sì, abbiamo fatto un ottimo allenamento oggi. Stiamo con foco bene sulla partita. Quindi fisicamente e mentalmente anche la vittoria con Monza vi ha aiutato molto, c'è molta euforia? Sì, sì. Questa è una bella vittoria fuori casa, da fiducia per arrivare bene e tutto quanto. Domenica contro Ravenna che partita sarà? Una bella partita. Per i tifosi sarà una bella festa. Daremo tutto in campo. Sicuro che possiamo fare molto bene. Grazie.